L'interesse. Un gesuita di tutt'altro orientamento fu Alighiero Tondi, di cui ci parla Matteo Manfredini, che è uno storico, né il gesuita comunista, vita estrema di Alighiero Tondi, spia in Vaticano, pubblicato da Rubbettino, 240 pagine e 15 euro. Padre Tondi fu un gesuita, anche egli noto e stimato nel suo ambiente, che nel 1952 all'improvviso lasciò la Tonaca e la Chiesa per aderire al partito comunista, che ne fece subito un propagandista contro il Vaticano, gli fece girare tutta l'Italia per infiammati comizi contro la Chiesa, contro Pacelli e contro il Vaticano, che egli aveva ben conosciuto all'interno. Tondi andrà poi anche in Germania orientale, sposerà una signora che diventerà poi una figura importante del Partito Comunista e una parlamentare. Come dimostra questo libro, Tondi già all'epoca in cui frequentava il Vaticano aveva fatto la spia per il Partito Comunista. L'idiglio col Partito Comunista però si interromperà a metà degli anni Sessanta e Tondi ritornerà addirittura al sacerdozio. Insomma, una figura tormentata e sfuggente, di cui tanto il Vaticano quanto il Partito Comunista preferirono far perdere le tracce e, rivangando nel passato e studiando le carte, Manfredini scopre che egli avrebbe coltivato anche simpatie per il fascismo e coltivato conoscenze nella destra dopo la Seconda Guerra Mondiale, probabilmente per fare un po' il doppio gioco. Insomma, una figura significativa del clima da guerra fredda, di cui l'Italia fu uno degli epicentri, di cui l'autore ricostruisce con passione protagonisti e momenti significativi.